A me per una volta piace pensare che possa essere il su da vincere, che ce la possiamo fare. Martedì ricorreva il 25esimo anniversario di Giovanni Falcone e ho rivisto un suo concetto che mi ha illuminato. Come concetto dicevano se le cose sono così non è detto che debbano andare così. Il problema è che quando c'è da rimboccarsi le maniche, da attuare un cambiamento, da voler cambiare, è allora che la stragrande maggioranza delle persone preferisce lamentarsi e non fare. Quando uno desidera ardentemente qualcosa è bello pensare, come diceva Paolo Coelho, che tutto l'universo trami affinché tu lo possa conseguire. Paolo Coelho Paolo Coelho Il significato semplice era quello di mantenere una promessa sportiva e quello invece di veicolare un messaggio sensibilizzando sulla sicurezza stradale. Paolo Coelho Paolo Coelho Paolo Coelho Paolo Coelho